buongiorno buongiorno followings allora benvenute nell'ultimo vlog speciale 30.000 iscritti sono le quattro e mezza del pomeriggio io sospettando mio marito che esce da lavoro no scusatemi sono le 5 e mezza oggi è stata una giornata di quelle avete presente quelle giornate no ecco oggi è stata la giornata no perché praticamente stamattina alle 5 ci siamo svegliati 5 e mezza siamo partiti di casa ho portato mio marito al lavoro e poi sono tornata a casa mi sono svegliata che già non ero informissima però detto boh sarà che ho dormito poco dormito male torno a casa ho detto adesso mi metto di nuovo il pigiama mi metto un pochino a letto dormo almeno un altro paio d'ore così per le 8 7 e mezza 8 mi alzo mi faccio tutte le mie cose con calma visto che non avevo mare che ho lasciato ieri da mia mamma e poi nel pomeriggio dovevo fare tutte queste commissioni che ho finito di fare praticamente dieci minuti fa no venti minuti fa e poi sono venuta qui a prendere mio marito arrivo a casa metto nel letto ed è arrivata alla fine del mondo per me ovviamente sono stata malissimo ma li simo dalle sei e mezza fino a mezzogiorno e mezza piegata in due sapete chi mi tempo lo sa già i miei soliti dolori la mia colite spastica un po strana e niente sono rimasta appunto piegata in due con tutti i dolori del caso con adesso non voglio entrare nei particolari ma sapete cosa viene bisogna andare in bagno 300 mila volte con dolori anche vomito magari vedete questo video alle sei e mezza del mattino non è che mi interessano tanto questi particolari comunque e niente quindi sono stata così tutto il giorno poi una volta che il dolore è un po passato cominciato a prendermi il mal di testa quello lì fortissimo proprio da non capire niente mi schiudevano gli occhi da soli in tutto questo io stamattina non ho fatto colazione e oggi non ho pranzato ho avuto solo le forze di farmi una camomilla e di prendermi la medicina che prendo quando quando sto così vale e basta e poi mi sono fatta la chi accusa signora mi guarda e poi mi sono fatta la appunto la camomilla la borsa dell'acqua calda e niente quindi è stata la giornata no io la casa letteralmente sotto sopra ma davvero perché ieri ho detto vabbè basta non faccio più niente me la vedo poi domani ho fatto solo una lavatrice sono riuscita ad attaccare una lavatrice e ad attaccare un'asciugatrice basta non ho fatto più niente tutti i panni in giro roba in giro la cameretta di mare che è un disastro la mia stanza è un disastro bisogna lavare a terra dappertutto non vi dico il bagno ci sono panni ovunque quindi niente questa è stata la mia la mia giornata sul letto comunque appunto poi mi sono addormentata un pochino ma sono dovuta poi scendere dopo neanche un'oretta perché dovevo andare a fare tutti questi servizi che avevo paura anche di non riuscire a fare ma in realtà non si potevano neanche rimandare quindi mamma mia mamma mia in più novità non c'è 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 una cosa che non vi ho detto praticamente noi questa notte partiamo e andiamo a napoli nei miei suoceri non ve l'ho detto perché non ero sicura fino all'ultimo quindi ho detto prima di dire una cavolata aspetto e lo dico quando poi sarà sarà reale e quindi è reale stanotte partiamo sto aspettando appunto che esce mio marito da lavoro così poi andiamo a casa lui dorme un po' e io faccio il tutto il possibile proprio più veloce che posso approfittando della gentilezza della mia mamma nel tenermi Marek e poi vado appunto a prendermi Marek e questa notte penso per mezzanotte luna partiamo partiamo in macchina perché col treno io ho un po' paura sinceramente a darmi a mettere nel treno per questa storia del covid allora andiamo dai miei suoceri non è una vacanza staremo domani che oggi per me martedì staremo domani che è mercoledì poi staremo giovedì e venerdì e se non ho capito male partiamo venerdì notte o sabato notte non mi ricordo comunque stiamo pochissimo 3-4 giorni andiamo appunto vi dicevo non è una vacanza ma andiamo perché c'è mio suocero che è stato malissimo è stato ricoverato in ospedale anche di questo non ve ne ho mai parlato per questo mi avete vista insomma un po' spenta magari oppure anche un pochino insomma saltellavo la programmazione qua e là perché abbiamo ricevuto mille 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 notizie adesso per fortuna sta meglio grande nonno ago che stai meglio niente adesso appunto nonno ago sta meglio e è stato ricoverato due volte in un mese la prima volta non siamo potuti andare perché non si poteva uscire dalle regioni e poi era un macello però poi la cosa sembrava risolta in realtà dopo 15 giorni è successo di nuovo anche peggio e adesso è ancora in ospedale in teoria in teoria speriamo dovrebbe uscire domani così possiamo stare un po' con nonno ago e basta può vedere marek e tutto quanto e niente ragazzi quindi per quello che dicevo è un periodo veramente no questa è una una sola delle tante cose che ci stanno succedendo in questo 2020 vabbè a parte la pandemia che è successo a tutti e tutte queste cose qua ci sono tante altre cose ma tante tante quindi ogni tanto la mia testa è altrove niente visto che sto parlando da troppo tempo mio marito ancora non esce e le macchine continuano a passare a guardarmi malissimo io adesso chiudo qui e noi ci vediamo dopo ci aggiorniamo dopo e niente ce li siamo allora ragazzi sono le 19.30 noi siamo tornati a casa in tempo perché come avete visto poi è iniziato a piovere anzi in realtà adesso ha smesso ma ha fatto proprio il diluvio universale mamma mia comunque allora mio marito dorme è andato come siamo arrivati si è fatto la doccia si è buttato a letto e dorme così almeno parte un pochino riposato perché deve guidare per dieci ore e mi ha detto vieni vicino a me dormi un pochino anche tu perché io ragazzi sono stanchissima più che altro perché sono stata male non ho fatto niente oggi quindi ma sono stata davvero male però io non ce la faccio cioè non posso andare via col pensiero che ho la casa sporca o la casa in disordine pensate che oggi volevo addirittura pulirmi lavarmi i cuscini proprio il cuscino l'imbottitura insomma il cuscino e la lavatrice e ho detto così ci sono quattro giorni di tempo si asciugano sicuramente anche se non c'è il sole perché tanto li avrei stesi in casa e quella dei cuscini è una cosa che faccio una volta all'anno e la faccio d'estate ho detto po' lo faccio così non ho paura che magari non si asciugano niente non ho fatto proprio nulla 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 mi ero messa giù una lista di tutte le cose da fare non ho fatto niente non sapete c'è me ne vado proprio non so come dire mi insoddisfatta ecco niente comunque adesso io do una sistemata alla cameretta di mare che ho quasi fatto tutta la casa mi rimasta solo la camera da letto ma sta dormendo mio marito e il soggiorno bisogna solo lavare a terra poi quando mio marito si sveglia portiamo fuori la spazzatura che domani abbiamo non mi ricordo mi sembra la carta l'organico non mi ricordo comunque dobbiamo portare fuori la spazzatura e poi andiamo a prenderci Marek perché alla fine non mangiamo da mia mamma doveva mangiare da mia mamma ma abbiamo cambiato idea e ci andiamo a prendere Marek per le 10 e mezza 11 così giusto partiamo con lui in macchina e mia mamma è stata gentilissima a tenermelo non solo tutto il giorno ma anche tutta la serata così mi ha detto sistemati la casa perché mi conosce lo sa che poi parto nervosa isterica e no 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 niente Dyson passo solo l'aspiravolvere in camera di mare che non mi metto a lavare a terra poi finisco di pulire e facciamo la valigia insieme perché devo ancora fare la valigia poi mi devo fare la doccia i capelli non mi sono fatta neanche le unghie quindi credo che mi porterò la lima da mia suocera e mi toglierò tutto questo schifo e basta basta fare i capelli sopracciglia niente ci vediamo dopo allora ho messo sul divano tutta la roba che dobbiamo portarci e mettere nelle valigie in realtà non è tantissima roba anche perché stiamo solo 3-4 giorni però più che altro la roba di Marek ne ho messe in quantità industriali chi più ne ha più ne metta tanto una valigia bella grande e siccome Marek si cambia a casa senza far nulla 3 volte figuriamoci lì da mia suocera che poi giustamente andrà giù a giocare a fare perché non è che lo possa tenere chiuso in casa tutto il giorno chissà come si combina comunque adesso io preparo la valigia metto tutto dentro e basta così poi vado a fare una bella doccia allora da notare che mio marito ha due magliette? no, tre e due pantaloni e una camicia io e Marek abbiamo riempito una valigia e allora non ci fate caso è fatta maluccio alla veloce ma tanto quando arrivo poi da mia suocera se qualcosa è stropicciato gli do una bottarella di ferro da stiro e via potevo fare molto meglio ma ragazze non sono in vena per niente quindi metto tutto via così tanto la roba bene o male è piegata bene e poi appunto al massimo gli do una botta di ferro da stiro e qua ci sono le scarpe che mi voglio portare io che questa in realtà è un regalo anche questo di compleanno però di mio marito mi ha regalato scarpe, due paio di scarpe, borse e anche qualcosa da vestire comunque sono della in blu queste qua sono fatte così bellissime e poi ci sono queste qui con queste pietroline molto molto carine più che altro ragazzi sono ultra comode e io d'estate siccome mi si gonfiono anche i piedi devo essere più che comoda le scarpe vado a metterle in un'altra borsa le metto qua dentro insieme alle scarpine di Marek e basta poi ho preparato anche gli spazzolini per me, per mio marito e per Marek utilizzo quelli là che abbiamo a casa chiusi così non devo stare a chiudere, impacchettare gli altri spazzolini e poi ho preso una lametta per me le strisce depilatorie per i bastetti per me che non si sa mai poi ho preso il dentifricio per Marek mentre noi utilizziamo quello di mio suocera tranquillamente Marek ovviamente no un aiuto si chiama, deodorante un deodorante per mio marito un deodorante per me e poi i cotton fioc per Marek per noi no perché appunto ce li ha mia suocera però quelli per Marek non li ha siccome non ho il pacco chiuso adesso mi porto questi qua e me li metto in un sacchettino e niente, questo anche si mette tutto in valigia ovviamente ragazze non porto trucchi uno perché non mi trucco mai due perché comunque vi ripeto non stiamo andando in vacanza ma stiamo andando a vedere come sta il mio suocero e niente però vorrei portarmi lei lei me la voglio portare perché questa la mattina me la metto molto volentieri e basta tutto qua allora ho preparato anche i cuscini uno per me e uno per Marek e qui c'è lo zainetto di Marek con alcuni libri della nanna il libro dei perché e con i colori e dei fogli anche Charlino dove è Charlino? anche Charlino adesso vado alla nonna perché se no come si fa è vero Puzzetta dove sei? tartaruga più puzzolente del mondo dove è? Charlie? non vuole essere ripreso è vero Puzzetta è vero Puzzetta eccoci eccoci allora noi siamo arrivati stamattina siamo a casa di mia cuocera ciao 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 noi siamo arrivati stamattina erano le 8 più o meno è stato un viaggio orribile lunghissimo un viaggio di quelli proprio da dimenticare abbiamo beccato il diluvio abbiamo beccato la grandine abbiamo beccato la nebbia e abbiamo basta non abbiamo beccato più niente poi io sono stata male di nuovo durante il viaggio sono stata malissima è stato un viaggio no comment comunque niente io adesso scendo perché dobbiamo andare a prendere il mio suocero che finalmente esce dall'ospedale cotto mare noi bene o male siamo riusciti a riposarci oggi ma lui aveva troppa adrenalina era proprio contento di vedere i nonni non li vedeva da un sacco di tempo e adesso sono le 6 e mezza di sera ed è crollato lui ha dormito tutto il viaggio quasi tutto il viaggio però comunque è sempre dormito sul sul seggiolino quindi è scomodo quindi non è che ha dormito bene e in più si è svegliato tante volte però è stato bravissimo non me l'aspettavo davvero la mia raccomandazione il tempo che fanno a prendere il suo il Napoli ha vinto contro la Juve Coppa Italia e questo è niente buongiorno ragazze oggi è il giorno dopo e sono venuta qui a concludere il video scusatemi se sarà un video un pochino così ma sono stati momenti un po' strani adesso per fortuna come vi dicevo mio socero sta molto meglio ed è tutto a posto che altro volevo dirvi? ah non vi ho detto che nel viaggio ci si è anche rotto il cambio della macchina quindi abbiamo portato anche la macchina ad aggiustare quindi questo è proprio un periodo sfigatello per noi e niente stamattina siamo stati un po' al mercato e ho acquistato qualcosina per la casa che vi farò vedere tutto nel video di lunedì niente io vi mando un bacione grande grande vi ringrazio di avermi tenuto compagnia durante questa settimana dei nostri vlog speciale 30.000 iscritti spero vi abbia fatto piacere stare in mia compagnia per 5 giorni e perché no magari qualche altra volta per qualche altro speciale se vi ha fatto piacere ve ne posso fare degli altri vi ringrazio ancora tanto perché mi avete sostenuta seguita in tante grazie mille per tutti i commentini che mi avete lasciato e niente vi ricordo che se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perdete tutti i prossimi video che caricherò io vi mando un bacione noi ci vediamo lunedì con un altro video mi raccomando che vi faccio vedere tutti gli acquistini che abbiamo fatto per la casa Marek hai sonno amore dai ah va bene manda un bacio di ciao followings ci vediamo lunedì è lunedì papà va bene ci vuole il traduttore ciao papi ciao followings un bacio al prossimo video ciao